La società partecipazione pubblica RSA che si occupa delle operazioni per restituire alla comunità locale il sito dell'ex ambientifera di Balangero e Corio adeguatamente risanato e rimesso in sicurezza ha organizzato una visita guidata all'ex complesso minerario per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori che consentiranno a fine anno di restituire bonificati circa due terzi dei 310 ettari del sito e permetteranno di valutare le prospettive per il futuro sviluppo dell'area Si sta infatti lavorando alla costituzione di una comunità energetica che nell'ex ambientifera produrrà energia installando pannelli fotovoltaici e una centralina idroelettrica e che giocherà alle importanti scommesse della produzione di idrogeno e dell'eventuale recupero di materiali utili ancora presenti nell'ex stabilimento in cui l'amianto veniva lavorato e confezionato Gli incoraggianti dati derivanti dai campionamenti quotidiani sull'aria nell'ex complesso industriale confermano che per ogni litro potenzialmente inalato da un visitatore il numero di fibre di amianto presenti varia da 0,2 a 0,4 I materiali contaminati saranno ricollocati all'interno di un volume confinato oggetto di un'autorizzazione integrata ambientale da parte della città metropolitana Il sito che abbiamo visto è stato importante per l'economia locale ha dato tanto lavoro per tornare ad esserlo in futuro Sì, questa è una scommessa che gli enti locali stanno facendo tutti insieme la regione, la città metropolitana, i comuni interessati per tornare a dare nuova vita a questo che è stato un sito importante ma che può tornare ad esserlo Ci sono tanti progetti oltre alla bonifica ambientale che possono davvero riqualificare questa zona e dargli un interesse da un punto di vista produttivo Consigliere Sicchiero, questo è un esempio di come si può risanare un luogo che ambientalmente era veramente un punto nero del nostro paese Sì, un luogo che faceva paura, anche preoccupazione ai cittadini c'è un risanamento in atto con la collaborazione di tutti gli enti locali ma anche di città metropolitana e regione ed è un esempio, direi, virtuoso di quanto si possa fare con la collaborazione fra enti Città metropolitana ci mette del suo Ci mette del suo, mette del personale segue l'evoluzione progettuale di questo luogo e quindi, insomma, svolge il suo ruolo, il suo compito direi oggi abbiamo fatto una visita molto bella e interessante Questo diventerà probabilmente un modello nei prossimi anni per altri luoghi d'Italia che hanno problemi come questo Esatto, sappiamo che tra l'altro è già preso a modello da parte di altri luoghi che sono nelle stesse situazioni hanno avuto la stessa storia quindi direi un bel esempio virtuoso per tutti quelli che si trovano in questa situazione Grazie mille! Grazie mille!